Cultura, palazzina di caccia. Finalmente la regione Piemonte ha acquistato i terreni del Mauriziano e le cascine attorno alla palazzina di caccia di Stupinigi. Noi stiamo lavorando per realizzare un sogno, per trasformare Stupinigi, che è una delle più belle residenze sabaude, quindi uno dei più particolari castelli al mondo, in uno dei punti di riferimento culturali, non soltanto a livello piemontese, ma a livello internazionale. Insieme alla regione siamo impegnati in uno studio di fattibilità che vedrà la luce nei prossimi mesi e che ha l'obiettivo, ripeto, di rendere viva Stupinigi, di migliorarla, di trasformarla in un punto di eccellenza della cultura mondiale e soprattutto di inserirla nel circuito mondiale della cultura. Stupinigi è sul nostro territorio, Stupinigi è Michelino e noi vogliamo attraverso l'utilizzo sapiente del castello innalzare ulteriormente il livello culturale della nostra città e offrire soprattutto ai nostri cittadini una nuova opportunità, che è un'opportunità culturale, ma anche e soprattutto di lavoro, di sviluppo e di promozione sociale.